Cosa accadrebbe nelle vite dei cittadini all'ombra del Vesuvio se scattasse l'emergenza eruzione? Per Germano potrebbe essere addirittura l'occasione giusta per liberarsi da una fidanzata gelosissima. Esce in sala, a partire dalla campagna, la commedia on the road in fila per due di Bruno De Paola, protagonisti Andrea Di Maria e Francesca Chilleni. È un film a cui tengo particolarmente, appunto perché è il mio primo film da protagonista, è l'ultimo sicuramente perché non me ne faranno fa' chiù, ed è un film delicato, una commedia molto delicata e a me piace molto la delicatezza, sono proprio un fan della delicatezza, tutto ciò che è gentile, che è garbato e penso che questa commedia lo sia. È la storia di Germano, questo ragazzo bellissimo, che a 35 anni si ritrova a vivere una vita che non gli appartiene perché ha un lavoro che non lo gratifica, una relazione che non lo fa stare sereno con la gelosissima e bravissima Francesca Chilleni, per cui si ritrova a 35 anni in crisi. Ci vuole una scossa, proprio nel vero senso della parola, perché dopo una scossa di terremoto di origine vulcanica che fa scattare un piano di evacuazione, Germano approfitta di questa opportunità, di questa fuga di questa evacuazione per fermarsi, per scendere da questa giostra incagliata che è ormai diventata la sua vita e per guardarsi dall'esterno e riscoprire se stesso e le sue priorità. Già selezionato in concorso al Social World Film Festival e presentato come evento speciale al Napoli Film Festival, arriva nelle sale con No Mad Entertainment. Nel cast si segnala la presenza anche di Giacomo Rizzo. Questo film è nato con me, perché quando era nelle idee di Antonio e del regista, insomma, insieme ne parlavamo di questa cosa che si doveva fare ed io mi sono già subito accanito. Speriamo che si faccia, perché mi piace questo ruolo e poi finalmente si è fatto per la verità. La storia parte da un piccolo paese alle falde del Vesuvio, dove Germano, Andrea Di Maria, 35enne, pigro, dal futuro lavorativo incerto, vive una tormentatissima storia d'amore con Sonia, sua coetanea tanto bella quanto gelosa e possessiva. I dettagli del film nelle parole del regista Bruno De Paola. È una commedia leggera, anche se si parla di un tema un pochino, come dire, scoltante, che è appunto l'emergenza Vesuvio, perché si parla tanto di piani di evacuazione. Io, essendo nato e ancora vivo alle falde del Vesuvio, insomma, è un problema che sento molto. Quindi ho cercato, attraverso una storia divertente, di parlare anche di questo problema che è molto grande, insomma.